A Napoli è partita la raccolta firme per il referendum sull'abrogazione dell'autonomia differenziata. Sarà possibile partecipare alla petizione fino al 6 settembre recandosi nelle sedi delle 10 municipalità cittadine dal lunedì al venerdì. Da Chiaia a Bagnoli, dal Vomero a Miano, gli orari per firmare sono fissati nell'arco della mattinata ad eccezione della municipalità dell'Avvocata, Monte Calvario, Mercato, Pendino, San Giuseppe dove si potrà firmare solo il giovedì dalle 16 alle 18. Era prevista per la giornata di ieri la presentazione della campagna referendaria a Piazza Municipio, poi annullata da CGL, Will, Napoli e Campania dopo la tragedia avvenuta la notte precedente a Scampia. Dal governo intanto il ministro Raffaele Fitto ha annunciato un nuovo stanziamento di risorse europee del Fondo Sviluppo e Coesione alla Campania, con la proposta alla CIPES per il finanziamento di 81 interventi di particolare rilevanza, per un totale di 1,97 miliardi di euro. Oggetto della proposta di delibera sono interventi strategici negli ambiti dove si manifestano i più significativi divari territoriali con il resto del paese, ha spiegato Fitto, come i servizi ambientali e i trasporti e nel campo dei beni culturali. Queste risorse si dovrebbero aggiungere alle assegnazioni precedenti, per cui sono stati già predisposti decreti di finanziamento, e che riguardano il risanamento di Bagnoli Coroglio per oltre 1,2 miliardi di euro, per completare i progetti non conclusi della precedente programmazione, per 388 milioni di euro, e per far fronte all'emergenza bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, per 206 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro. In totale alla campania spettano quasi 6 miliardi.